Sebbene il mondo sostenga che l'imposizione della pena di morte a coloro di età inferiore ai 18 anni costituisca una punizione troppo crudele e inusuale, alcuni stati hanno una storia piuttosto ricca di casi riguardo all'esecuzione di minori. I seguenti sono casi poco noti riguardanti questo argomento polemico e sconcertante. Ad un certo punto nella storia, questa sembrava essere la forma di giustizia di routine in tutto il mondo. Lasciate un mi piace, iscrivetevi, mettetevi comodi perché dovrete decidere se, secondo voi, questi ragazzi si meritavano davvero la pena di morte. Numero 5, Michael Shane Bargo. Questo ragazzo non ha nemmeno battuto ciglio quando il giudice lo ha condannato alla pena di morte per l'uccisione del 2011 del giovane 15enne Seth Jackson. Durante le indagini, gli investigatori hanno detto che Bargo ed altri quattro individui hanno attirato Jackson in una casetta dove poi lo hanno picchiato, ucciso con un'arma da fuoco, smembrato e bruciato il suo corpo per poi sbarazzarsene. Tutto questo per una misera disputa per una ragazza. Il giudice, mentre analizzava il caso, lo descrisse come l'omicidio e a sangue freddo più orribile calcolato che abbia mai visto. I genitori di Seth Jackson non andarono in tribunale durante l'analisi della vicenda, mentre la nonna dell'imputato scoppiò a piangere in aula. I genitori invece dell'imputato non vollero dire una parola e lasciarono la sala. L'avvocato invece diede la colpa a Jackson, dicendo che esso era una persona violenta, che spesso minacciava le persone dicendo che le avrebbe stuprate, uccise sparandogli oppure che avrebbe bruciato la loro casa. Ovviamente il giudice non ha sentito queste informazioni perché l'avvocato pensava che tutto ciò sarebbe stato presente nell'appello automatico alla Corte Suprema del Paese. Credeva anche che la pena capitale fosse troppo per il ragazzo che al tempo dell'omicidio aveva solo 17 anni. Il giudice però non la vedeva in quel modo, infatti condivideva la stessa idea della giuria. Michael Bargo doveva morire. Il giovane venne preso e portato in un calcere fino a quando non fosse stata stabilita la data dell'esecuzione. L'avvocato invece consegnò tutte le scartoffie del caso ai difensori pubblici, che dovevano poi loro stessi appellarsi alla Corte Suprema. Di fatto se ne lavò le mani cercando di salvare la propria carriera. Numero 4. Dylan. Dylan Storm Roof è stato condannato a morte per la strage di Charleston nel giugno del 2015. Il giovane entrò in una chiesa metodista di Charleston in South Carolina e uccise 9 afroamericani che seguivano la messa. La sentenza è arrivata oggi dopo che la giulia popolare ne aveva già decretato la colpevolezza. La sua è la prima condanna federale alla pena capitale e messa per un crimine d'odio. All'epoca del massacro era un dichiarato suprematista bianco con ossessioni segregazioniste e con il folle sogno di far scoppiare una guerra civile per arrivare ai suoi obiettivi. Le indagini condotte dopo il suo arresto appurarono che progettava l'attacco da almeno 6 mesi. La sera del 17 giugno del 2015 Roof entrò in una chiesa di Charleston mentre i fedeli ascoltavano la lettura della Bibbia. Il giovane si mise a sparare con una calibro .45 che aveva comprato in un negozio nel mese di aprile. Uccise 6 donne e 3 uomini tra i quali un membro del senato dello stato e simbolo delle battaglie per i diritti della popolazione afroamericana. Poche ore dopo la fuga Roof fu bloccato mentre era a bordo della sua auto. Era ancora armato ma non oppose resistenza. Durante il processo l'imputato ha rilasciato varie deposizioni senza mai mostrare segni di rimorso o di pentimento. Ha sempre respinto con forza ogni ipotesi su possibili problemi psicologici e non ha mai chiesto perdono o clemenza. Ne ha tentato di fornire motivazioni per il suo operato. Ha ricordato che il dissenso di un solo giurato sarebbe bastato per risparmiarlo. Poi alla lettura del verdetto è rimasto impassibile senza mostrare emozione, immobile nel silenzio mentre diversi familiari delle vittime non riuscivano a trattenere le lacrime. Numero 3 Austin Myers. Un giovane diciottenne di nome Justin che si era appena ruolato per la marina pregò che la sua vita fosse risparmiata dai suoi amici mentre lo strozzavano e lo accoltellavano ma invece loro continuarono con un brutale omicidio. Austin Myers ha cercato di chiedere al giudice che risparmiasse la sua vita una settimana prima, infatti Warren Country della giuria aveva raccomandato la pena di morte per il giovane diciottenne. Alla fine questo caso si concluso dopo un pomeriggio in cui il giudice sentì cosa avevano da dire il signor Myers e la famiglia della vittima, Justin Beck. Questi ultimi dissero mentre parlavano con Austin Myers, ossia uno dei ragazzi condannati per aver ucciso Justin, che esso avrebbe potuto fermare tutto, piuttosto disse a Justin che era tutto ok e che tutto stava per finire. A detta della copia il ragazzo poteva cambiare idea anche se non lo fece, soprattutto dopo che Justin gli stava pregando di sparmiare la sua vita. Il padre ribadì invece che non sarebbe stato lì a dire quanto effettivamente odiasse l'importato per aver ucciso suo figlio poiché era fin troppo ovvio, però sperava che ogni volta che il giovane avesse chiuso gli occhi la notte potesse vedere il volto del loro figlio Justin che lo avrebbe perseguitato per sempre insieme ai sensi di colpa. Sempre nello stesso pomeriggio ci fu anche l'intervento di Austin che parlando col giudice disse che aveva commesso un grandissimo errore, ma che aveva solamente 18 anni e che possedeva ancora molto tempo davanti a sé e che poteva quindi fare tante buone azioni se lo avesse lasciato in vita. Dopo tale dichiarazione il giudice Donald e Oda rimase fedele alla raccomandazione della giuria e lo sanzionò con la morte dicendo che l'imputato non capiva quanto fosse preziosa la vita. Dopo la sentenza David Foshnell rivelò altri dettagli scioccanti del piano del giovane che prevedeva uccidere altre persone. Informò che Austin voleva andare a tirare fuori l'arma che si trovava nel suo armadietto ed usarla come avevano fatto per quella che avevano rubato a Mark Gates per andare a uccidere poi sua madre e il suo nuovo padre, soli 15 minuti dopo aver terminato la vita del giovane Justin. Il figlio e il padre Shaw stavano tornando a casa quando Spinosa che era nel quartiere per visitare un amico li si avvicinò e gli sparò due volte, una volta nell'addome e di nuovo alla testa. Il pubblico ministero ha detto che Spinosa, un membro della banda della diciottesima strada, aveva scambiato Shaw per un membro di una banda rivale perché indossava uno zaino rosso di Spider-Man. I membri della famiglia di Shaw parlarono durante l'udienza, sua madre Anita Shaw stava servendo il suo secondo tour come sergente dell'esercito negli Stati Uniti in Iraq quando ricevette la notizia della morte di suo figlio. L'avvocato di Spinosa, Kasbah Pluffy, ha sostenuto invece una condanna a vita senza condizionale. Spinosa aveva 17 anni al momento dell'omicidio, disse Pluffy, e aveva condotto una vita dura fino a quel momento. Spinosa è stato portato negli Stati Uniti in giovane età, ha detto Pluffy. Il coinvolgimento della sua banda iniziò quando aveva 10 anni e trascorse la maggior parte della sua vita in campi giovanili, che Pluffy chiamò scuole di gladiatori. La sentenza però arrivò pochi giorni prima che gli elettori adottarono l'iniziativa di voto che, se fosse stata approvata, poteva porre fine alla pena capitale in California e convertivo a tutte le condanne a morte in condanne a vita senza condizionale. Jamie Shaw ha detto che sarebbe stata in pace con qualsiasi cosa fosse accaduta durante le elezioni, sebbene avesse intenzione di votare contro. La famiglia lasciò finalmente il tribunale dopo 4 anni e mezzo di procedimenti quando Pedro venne finalmente condannato a morte. Ritornarono nella stessa casa in cui viveva la famiglia quando Jamie Shaw Jr. era ancora vivo. La gente spesso chiede loro perché non si spostano da quella casa e quartiere. Shaw dice sempre sono collegata a questo luogo e lo sarò fino al giorno della mia morte. Numero 1. Brandon Lee Bradley. Una giuria della contea di Brevard nel 2014 ha condannato a morte Brandon Lee Bradley per l'assassinio della poliziotta Barbara Peel. Un impiegato dell'albergo aveva chiamato il 911 lamentandosi del fatto che Bradley avesse rubato un condizionatore delle lenzuola. Peel individuò il suo SUV e lo inseguì. Si avvicinò alla portiera del suo veicolo e gli chiese ripetutamente di uscire, ma lui rifiutò e cominciò a fare avanzare il SUV. Quando Peel raggiunse il veicolo per estrarre le chiavi dell'accensione, aprì il fuoco. La donna fu colpita 5 volte. La giuria ha raccomandato la pena di morte con un voto di 10 a 2. La Corte Suprema della Florida a novembre ha stabilito però che per ogni sentenza di morte è necessario che tutti i 12 membri di una giuria debbano votare la stessa scelta. Perciò ha annullato la condanna a morte per Brandon Lee Bradley, ma ha confermato la condanna dell'uomo per omicidio di primo grado, rapina, fuga, illusione e resistenza all'arresto con violenza. Stabilendo che ha diritto a una nuova udienza di condanna. Questo significa che il suo caso tornerà alla Corte per una riformulazione. Il procuratore di Stato, Phil Archer, ha detto che probabilmente cercherà di nuovo di dargli la pena di morte, mentre nell'appello Bradley ha chiesto alla Corte Suprema di imporre un ergastolo, richiesta che però è stata respinta perché quando viene annullata una condanna a morte viene automaticamente restituita al giudice per la ricondanna. Penso che sia sbagliato perché avrà una seconda possibilità. Barbara Peel non ha avuto una seconda possibilità, così si è espresso indignato Mike, che era uno dei dieci giurati che hanno votato per il condannare a morte Bradley. Ci è stato detto che avevamo bisogno solo di 10 su 12 voti e ne abbiamo ottenuti 10 su 12, quindi tutto ciò non dovrebbe essere cambiato. Invece la sentenza è cambiata a causa di una decisione della Corte Suprema che dice che il 10 a 2 non è più abbastanza, quindi hanno stabilito che un voto di condanna a morte deve essere unanime. Non puoi inventarti le leggi tre anni dopo e cambiarli in questo modo, non quando hai una giuria di suoi pari che la governa, ha detto Mike. Allora prendi l'intero sistema della giuria e buttalo fuori dalla finestra, a cosa serve? Mike ha detto inoltre che il video della videocamera della macchina e le immagini dell'autopsia sono praticamente incollate nella sua mente. Chiunque le abbia viste prenderebbe la stessa decisione che abbiamo preso. Chiunque era un omicidio calcolato a sangue freddo. La Corte Suprema della Florida non ha completamente escluso la pena di morte per Bradley, tuttavia sarà necessaria una nuova giuria per ascoltare le prove e condannare a morte Bradley di nuovo, ma tutti i giurati dovranno essere d'accordo questa volta. Numero bonus, Travis James Mullis. Travis James Mullis è rimasto da solo con i suoi evocati quando il verdetto della giuria è stato letto ed è infatti stato condannato a morte per aver schiacciato la testa del figlio di tre mesi sotto i suoi piedi per farlo smettere di piangere. Non un singolo parente o amico si era presentato a prestare supporto o ad ascoltare il verdetto. Sua madre adottiva era in Florida e fece sapere che non voleva avere niente a che fare con il caso. Gli ha scritto solo una volta durante i suoi quasi tre anni in attesa del processo nel cacere della contea di Grapestone, disse il killer ventenne. Sono solo anche delle prove che Mullis avesse molestato sessualmente il suo figlio prima di schiacciare il suo cranio su una strada di Grapestone per poi scagliare il suo corpo lontano da questa strada. Una donna di 19 anni, la cugina adottiva di Mullis, testimoniò che l'aveva molestata quando aveva solo 8 anni nel suo borgo di Baltimora dove i due erano cresciuti. Altri testimoni erano anche un ragazzo di 12 anni e una bambina di 11 che testimoniarono che Mullis avesse tentato di molestare anche loro. Mullis non tradì nessuna emozione mentre veniva a letto il suo verdetto. La ragazza di Mullis disse anche che le aveva chiesto di abbassare i pantaloni nelle prime ore del mattino prima che uccidesse il suo figlio. All'uomo fu data la pena di morte per l'uccisione del figlio, a Leah, il 29 gennaio del 2008. Fuggì dal luogo dell'omicidio ed alcuni giorni dopo si diresse verso la centrale di polizia di Philadelphia e dove diede agli investigatori gli iscritti e le registrazioni del resoconto del suo crimine. Questi erano sei casi in cui alcuni ragazzini tra i 17 e i 20 anni hanno commesso crimini terribili. Si potrebbe dire che avessero appena cominciato la loro vita ma sono stati condannati alla pena capitale. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con la pena data loro dalla giuria e dal giudice? Pensate sia troppo in alcuni casi o pensate che se lo meritavano tutti e come? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto e lasciate un grosso mi piace al video se vi è piaciuto. Non dimenticatevi nemmeno di seguire QBNow su Instagram che una curiosità al giorno non fa mai male. E non dimenticatevi nemmeno di iscrivervi se siete nuovi. Ciao! Ciao! Ciao!